buongiorno a tutti dalla campanaro 97 oggi mi trovo alla parrocchia di san pietro a san gersolè e ascolteremo l'angelus prefestivo delle ore 12 questa è la palla del campanile che si trova sulla somma vabbè lasciamo perdere questa è la campana maggiore che ascolteremo oggi e prima della campana ascolteremo il battiore il quale mi ha causato un infarto l'elettrificazione è una gallorini e la campana a mio parere non è niente male vi lascio alla suonata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti